La cancelliera tedesca Angela Merkel è in visita ufficiale per la prima volta in Islanda. È stata accolta dalla premier islandese Katrin Jacobs-Dottir al Tingweller National Park e le due hanno fatto una passeggiata dentro al canyon di Almanajá dove sono nettamente visibili due placche terrestri. Poi nella residenza estiva della premier islandese si è svolta una conferenza stampa congiunta a cui seguirà il Nordic Council, l'incontro dei leader nordici, che quest'anno vede in cima all'agenda il climate change e il gender equality e di cui Merkel è ospite d'onore. Perché dall'Islanda, ha affermato Merkel, per esempio, possiamo imparare con più forza che gli esseri umani devono trattare la natura con cura e umiltà. E sul gender equality Merkel ha aggiunto Dobbiamo recuperare in particolare l'economia, ma anche in politica. Le donne non hanno ancora raggiunto pari opportunità.